Vittoria numero 7, sorpasso in classifica e tabù Conegliano rotto. La Savino del Bene Scandici infatti vince e torna ad un successo che contro Conegliano mancava dal 25 febbraio scorso. 3-1 il risultato finale di una gara aperta con un primo set vinto e dominato da Conegliano in grado di imporsi. 25-14 sfruttando il blackout di una Savino del Bene in pantanatasi a metà set. Nel secondo e nel terzo set Scandici ha invece commesso meno errori, mantenuto l'aggressività vista nella prima parte del set iniziale e messo in campo una lucidità maggiore sia in attacco che in difesa riuscendo ad imporsi prima per 25-22 poi per 26-24 scacciando il tentativo di rimonta avversaria e il braccino di fine set. Nella quarta decisiva frazione infine Scandici ha chiuso la gara vincendo 25-18 in 29 minuti di gioco. Gara della maturità per la squadra di Carlo Parisi trascinata ancora una volta da una Hawk da 29 punti ma anche da una Vasileva poi eletta MVP e dalle difese di una Merlo in grande forma. Per Conegliano invece 17 punti di una Fabris calata alla distanza come tutta la squadra. Come detto Scandici sale ora a quota 20 punti in classifica superando Conegliano e portandosi al secondo posto alle spalle di una Navara, prima con 23 punti. Conegliano proverà a rialzarsi già dal prossimo incontro di campionato quando arriverà un'altra trasferta in Toscana, quella in casa dei Bisonte Firenze. Cuneo sarà invece la destinazione della Savino del Bene.